Novità nel Terra Nuova Traiana. In attesa che il campionato riprenda, la società biancorossa comunica un cambiamento nel suo assetto manageriale. Nicola Del Grosso, direttore sportivo della prima squadra e della squadra Juniores, ha risolto il suo rapporto con il Sodalizio Valdarnese. Le strade dunque si dividono. Nel comunicato non si precisano i motivi che hanno portato alla separazione, ma l'impressione è che non ci fosse piena concordanza di vedute sulla programmazione in vista della prossima stagione sportiva. Con l'uscita di scena di Del Grosso, la terrenovese saluta un manager di grande esperienza del calcio direttantistico e giovanile toscano. Del Grosso era giunto a Terra Nuova a fine marzo dopo un'esperienza con il Grassina. Prima ancora aveva operato per un trienne con la San Giovannese, cogliendo sempre i risultati importanti. Un dirigente di notevole spessore che ha contribuito al bel campionato dell'anno scorso dei biancorossi, concluso con lo spareggio con la Fortis Juventus perso in casa dopo i tempi supplementari. Adesso dunque le strade si separano, non è da escludere che possano ritrovarsi da avversari.